Ciao, io sono Antonio e questa è una nuova puntata di Potter News. Oggi siamo qui per parlare di tutte le ultime magiche novità provenienti dal mondo di J.K. Rowling. Ma prima di cominciare vi ricordo che, qualora voleste acquistare delle fantastiche magliette nerd come quella che indosso, oggi è naturalmente a Temeri Potter, con questa saetta formata da libri, vi basta andare su Pampling, dove col codice sconto 7Potter, codice riutilizzabile, potrete avere il 15% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito, anche quelli in offerta. Ma detto ciò, cominciamo con le news. La prima arriva dal mondo di Funko, perché a breve si terrà il London Toy Fair, la fiera del giocattolo di Londra, e Funko ha già annunciato tantissime novità, tantissimi pop, ma primi su tutti quelli che non interessano i nuovi prodotti Harry Potter. Fortunatamente nessun Funko Pop esclusivo da andare a recuperare e da disperarsi, perché ragazzi arrivano primi su tutti i Five Star, una nuova wave di Five Star, e in questo caso si tratta della versione erbologia dei tre personaggi principali, quindi Ron, Henry ed Hermione. Tutti e tre forniti di paraorecchi, di piccola mandragola, che ragazzi potrebbe essere una buona alternativa da affiancare ai vostri Funko Pop, visto che ormai il tripack delle creature costa davvero tantissimo, ha superato i 150€, quindi sarebbe davvero una buona occasione per reperire delle mandragoline di Funko. E quarto prodotto Five Star è invece Dobby. Dobby che a me, ad essere proprio sincero, non fa impazzire, non mi piace tantissimo, fornito col calzino e col diario di Tom Riddle. Quindi tutto proveniente dal film Harry Potter e la Camera dei Segreti. Io credo che la prossima wave di Funko Pop sarà quella dedicata al calice di fuoco, visto che il prigioniero di Azkaban è già stato quasi del tutto esaurito nella scorsa wave, e poi si è tornato indietro nella Camera dei Segreti e penso che adesso si farà un salto in avanti col calice di fuoco. Io mi aspetto una Flair e un Victor Krum. Ragazzi, devono per forza darceli. Ma detto questo, continuiamo con la carrellata di prodotti Funko, perché arrivano anche dei nuovi peluche e questa volta abbiamo il trio col cappello parlante e una mini Fanny, un po' cicciottella, un po' obesa, ma devo dire carina, non mi dispiace, però a me, lo ammetto, i peluche di Funko non mi fanno impazzire. E altro prodotto in arrivo sono i Vinyl. Una nuova confezione di Vinyl che, come sappiamo, presenta due prodotti e in questo caso si tratta di Luna Lovegood con i suoi spettrocoli e di Neville Pachock con la sua pianta di Mimbulus, Mimbledonia. Ragazzi, non ricordo esattamente il nome, scrivetemelo sotto nei commenti. Questo carino, pack molto carino, che segue quello di Bellatrix e Voldemort, ne sono usciti parecchi, però devo dire che questo è un prodotto che non ha funzionato tantissimo in casa Funko. E il nuovo prodotto, invece, sono i Pets. Chi non conosce Pets sono quei piccoli distributori di caramelle con la testa che va tirata all'indietro e dal quale fuoriesce una piccola zolletta di zucchero aromatizzata. E questa volta abbiamo le tre testoline del nostro trio con cappello parlante annesso, Dobby e, infine, anche Luna Lovegood. Tra tutti, secondo me, quello di Luna è il più riuscito anche per la colorazione rosa della parte sottostante la testa. Devo dire che però non mi fanno impazzire, non ne vedo molto il senso. È un prodotto molto americano. Ogni tanto si trovano in Italia, non questi di Funko, ma li ho visti in giro, soprattutto nei negozi di Dolciumi, quelli specializzati, ma non mi fanno proprio impazzire e non li collezionerei mai. Ma, chiuso il capitolo Funko, adesso ci spostiamo con le notizie provenienti dall'estero. La prima è proveniente dall'Inghilterra, ragazzi, nuova espansione ad aprile del Warner Bros. Studio Tour. Ebbene sì, nuova espansione di ben 1500 metri quadrati, arriva l'espansione dedicata alla Gringot. Dopo quella della foresta proibita e l'aggiunta negli anni passati del binario 9.75, questa volta arriva anche un'espansione enorme della Gringot. Sarà ricostruita tutta la sala principale della Gringot e sarà possibile visitare le camere blindate, come quella di Harry e anche quella di Bellatrix, dove sarà possibile realizzare delle foto. Ci sarà una sorta di set dove si potrà posare assieme a tutti i beni della famiglia Lestrange e soprattutto ci saranno le coppe di Tassorosso che si moltiplicano. Quindi, ragazzi, sicuramente sarà una bellissima esperienza. Sono già disponibili su internet dei render di quello che arriverà. Ci stanno lavorando davvero da tantissimo tempo e sono stati impiegati tutti gli scenografi che hanno lavorato ai film di Harry Potter. Quindi sarà una cosa di altissimo livello. E, ragazzi, questa volta spero davvero di poter andare a Londra per visitare nuovamente gli studios, perché io sono andato all'apertura nel 2012 e, dall'epoca, sono cambiate davvero tante cose, si è ingrandito parecchio e quindi, secondo me, il viaggio varrà la candela. Quindi, ragazzi, speriamo bene che possa riuscire ad andarci e portarvi finalmente un vlog anche dai Warner Bros Studio Tour. Ma non finiscono quelle notizie che arrivano dall'estero. Infatti, da Oporto arriva una bellissima notizia che riguarda la fanbase potteriana, per una volta qualcosa di positivo dai fan di Harry Potter. Perché è stata salvata, grazie al nostro intervento, ci mettiamo tutti dentro questa notizia, la libreria Lello, che non si pronuncerà Lello, ma si scrive così, probabilmente si pronuncerà Leio, ma non ho la certezza. Quindi, anche questo, ditemelo nel caso, nei commenti. Questa libreria è stata di grande ispirazione per J.K. Rowling e, dentro questa libreria, lei ha anche scritto diverse parti della storia, visto che ha vissuto parecchio tempo in Portogallo. Ebbene, è diventata meta di pellegrinaggio e, una volta introdotto un piccolo ticket per accedere a questa libreria, si è riusciti a salvarla. Infatti, era sull'orlo del fallimento, ma grazie ai fan di Harry Potter, che arrivano sempre in massa per visitare questa splendida libreria, si è riusciti a salvarla. E, addirittura, sono stati assunti dei nuovi dipendenti. Perché è stata trovata un'idea molto simpatica. Si pagano circa 5 euro per accedere a questa libreria, ma, acquistando un qualsiasi prodotto all'interno della libreria, a un qualsiasi libro, questi 5 euro vengono scalati dal prezzo finale del libro. Insomma, in poche parole, una sorta di ingresso con riscatto. Ottima mossa quella della libreria e sono davvero molto molto contento che sia stata ben accolta dalla fanbase potteriana. Quindi, ragazzi, qualora doveste andare a Dopotto, mi raccomando, una bella visita alla libreria Lello. Ma torniamo in Italia perché, strano ma vero, ogni tanto accade qualcosa di buono anche da noi, sono state aperte due escape room a tema Harry Potter. Una a Milano e una a Roma a tema prigioniero di Azkaban. Cosa sono le escape room? Lo sappiamo tutti, ma lo ribadisco per chi non lo sapesse. Sono delle piccole stanze, piccolo o grandi, dipende dalla grandezza della struttura, dove si va in gruppo, si viene chiusi all'interno di queste stanze e si ha un'ora di tempo, solitamente, per poter risolvere degli enigmi e per poter portare a compimento la trama di una storia che bisogna andare a sciogliere trovando degli indizi e risolvendo degli indovinelli e degli enigmi. Tutto molto divertente. Naturalmente ci sono escape room realizzate meglio, altre peggio. Sembrerebbe che queste due di Roma e Milano siano davvero molto molto interessanti. Qualora qualcuno di voi ci fosse stato, ragazzi, mi raccomando, scatenatevi nei commenti. Adesso passiamo al capitolo libri, perché, ragazzi, finalmente abbiamo una data per Harry Potter e il calice di fuoco illustrato da Jim Kay e finalmente possiamo segnare sul calendario la data di ottobre 2019. Sì, ragazzi, finalmente con un anno di ritardo uscirà la versione illustrata anche del quarto capitolo di Harry Potter. Jim Kay l'aveva anche annunciato in passato su Facebook, ha avuto dei grossi problemi con il suo braccio, perché è stato davvero troppo pesante e impegnativo rispettare le scadenze di un libro l'anno con la pietra filosofale, la camera dei segreti e prigioniero di Azkaban, quindi si è preso più tempo per questo libro che anche quello più grosso della saga, uno dei più grossi comunque. L'Ordine della Fenice, secondo me, impiegherà altri due anni, due anni e mezzo per vedere la luce. Ma questo lo scopriremo solo più avanti. Intanto non ci resta che aspettare ottobre e sono davvero super curioso di vedere il suo lavoro. I libri di Jim Kay sono sempre super super belli. E ancora rimanendo in tema libri, ma spostandoci su un altro argomento non strettamente potteriano, il 4 febbraio è arrivato in Italia il quarto capitolo delle avventure di Cormoran Strike, perché il quarto volume intitolato Lethal White, o in italiano bianco letale, è finalmente disponibile. È già disponibile anche la serie TV dedicata a questo libro che in Inghilterra è uscito con un po' di anticipo. Nei paesi di lingua anglofona è arrivato già da qualche mese e a quanto pare la serie TV è stata addirittura girata prima del rilascio ufficiale del testo. Quindi, qualora foste interessati, potete già recuperare anche tutti e quattro gli episodi di Cormoran Strike mandati su BBC, se non sbaglio. Ma comunque è facile reperirli. Ragazzi, io sono comunque grandissimo fan della saga di Cormoran Strike, ho visto i primi tre capitoli in TV e naturalmente ho letto anche i primi tre libri. Non vedo l'ora di leggere anche quest'ultimo che naturalmente anche questa volta è edito da Salani. Ragazzi, adesso ci spostiamo invece nel reparto home video perché parliamo di animali fantastici i crimini di Grindelwald che arriverà ufficialmente in Italia il 14 di marzo. E, ragazzi, abbiamo anche saputo che slitteranno le riprese del prossimo film perché Warner Bros. vuole fare qualcosa di più epico ma secondo me vogliono correggere un po' il tiro vogliono un po' correggere i buchi di trama che si sono formati nel secondo capitolo e quindi stanno prendendo anche un po' più di tempo per rattoppare la trama. Questo è un mio pensiero personale magari mi sbaglio ma, ragazzi, sono sempre interessato al vostro commento, alla vostra opinione. Ma, tornando all'home video abbiamo diverse opzioni. Il 14 marzo arriverà la versione DVD di I crimini di Grindelwald la versione Blu-ray 4K la versione Blu-ray classica è una versione molto molto particolare che spero di portare sul canale la versione Blu-ray in confezione lenticolare in Digibook. Davvero molto molto interessante ci saranno all'interno due dischi sarà una sorta di libro cartonato con la copertina lenticolare cangiante. Molto molto bello ho visto il pack, le prime immagini nel comunicato stampa di Warner Bros. che mi è arrivato di recente e spero davvero di riuscire a portarlo qui sul canale perché sarebbe molto molto interessante da recensire. E arriverà in lingua inglese anche la versione estesa in digitale che a quanto pare non arriverà in italiano ma all'interno dei cofanetti troveremo comunque molte delle scene cancellate delle scene eliminate tra queste ci sarà anche una scena che riguarda l'incontro tra Silente e la McGranit. Ci sarà una conversazione tra di loro che non abbiamo visto nel film. Io non sono grandissimo fan delle scene extra perché preferisco quando vengono incluse all'interno del film in versioni estese ma comunque le andrò a recuperare naturalmente per poi magari fare un video e discutere con voi di queste scene. Fatemi sapere se la cosa può interessarvi. Ultima notizia prima di salutarci riguarda Alfonso Cuaron. Sembrerebbe che Alfonso Cuaron regista di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban abbia dato piena disponibilità a Warner Bros per tornare alla regia in uno dei capitoli di Animali Fantastici. Io ne sarei assolutamente felice e sono sicuro anche molti di voi perché il prigioniero di Azkaban secondo me è uno dei film meglio riusciti dalla saga di Harry Potter una fotografia fantastica una regia impeccabile a parer mio mi è davvero piaciuto tantissimo quel film e sarei felice di vedere Cuaron alle prese con Animali Fantastici ma dubito fortemente che David Yates si possa mai staccare dalla poltrona che ha saldamente incollata alle chiappe. Quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate se a voi farebbe piacere rivedere Alfonso Cuaron alla regia di uno dei film della saga di Animali Fantastici io spero di avervi tenuto compagnia per 10 minuti che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere tutto quello che pensate sotto nei commenti e ragazzi naturalmente io vi chiedo di lasciare un mi piace commentare iscrivervi al canale quando non foste ancora iscritti e consigliare il canale a tutti i vostri amici vi ricordo che per sostenere il canale potete acquistare qualsiasi cosa attraverso i miei link Amazon così Amazon riconoscerà una piccola percentuale al canale che potrà continuare a migliorare grazie a questi piccoli interventi a questi piccoli click che a voi non costano nulla ma che a me aiutano tantissimo è stato possibile acquistare questo studio fantasmagorico alle mie spalle bene ragazzi detto questo io vi do appuntamento a presto con tante novità e doppio video questa settimana piccolo spoiler parleremo del trono di spade parleremo delle nuove teorie delle mie teorie di cosa mi aspetto nella prossima stagione quindi mi raccomando state connessi io adesso vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine ciao ciao ciao